Come è andata l'iniziativa di Idea Solidale in piazza CLN a Torino? Svoltasi domenica. Ma è andata molto bene. Quest'anno, come tutti gli altri anni, noi la facevamo prima al Cordile del Maglio. Quest'anno abbiamo voluto prendere un'altra coreografia, l'abbiamo fatta in piazza CLN, che è una piazza che nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia ricorda alcune cose importanti, tipo i nostri fiumi principali che abbiamo in Torino, ma oltretutto è stata proprio una cornice ideale per le associazioni di volontariato, perché questa iniziativa del volontariato in vetrina è proprio una vetrina per il volontariato, nel vero senso della parola, cioè le associazioni si mettono in vista alla popolazione e lo facciamo sempre sotto Natale perché è anche un momento dove la gente è più ben disposta anche nell'acquisizione dei regali, più ben disposta verso queste associazioni che vivono poi di fatto proprio di contributi che avviene dalla gente e questo è un momento particolare tra l'altro perché essendo una crisi molto pesante per tutti, non solo per il volontariato, ma il volontariato in particolare la sta vivendo in modo grave perché ci sono stati dei tagli sul sociale in senso generale, poi ci sono stati questi tagli sul 5x1000 che non permettono alle associazioni di avere i contributi dei cittadini. Pertanto gli unici contributi che abbiamo sono quelli che ci vengono dall'acquisizione che fanno quando vengono le nostre bancarelle e quest'anno abbiamo avuto dai cittadini una risposta positiva. Questo vuol dire che la gente ama il volontariato, volontariato che sarebbe a rischio secondo lei? Ma il volontariato, diciamo come volontariato, non è a rischio perché l'associazione di volontariato vive con poco proprio perché l'attività è volontaria, gratuita, vive con poco, è che senza questi contributi sono a rischio le attività che il volontariato mette a disposizione delle persone. Perciò non è tanto a rischio l'associazione quanto a rischio i servizi che vengono dati alle persone e normalmente sono servizi che vengono dati alle persone più bisognose. Cosa vi augurate dunque? Noi innanzitutto ci auguriamo che con il decreto 1000 proroghe il 5x1000 venga ripristinato in modo che le associazioni possano usufruirne anche per il prossimo anno. Poi ci auguriamo che venga di fatto messo in modo tale che possa essere garantito per tutti gli anni anche perché bisogna rispettare la volontà dei cittadini. Lei prima diceva che il volontariato è amato dalla gente. Ma questo lo dice anche le statistiche, il 71% delle persone destina i fondi ad attività di volontariato perciò vuol dire che il volontariato è amato dalla gente. Grazie a tutti.